Sono contenta di essere qui per restituire a tutta la città di Gaeta un simbolo di questa città. Noi ce l'abbiamo messa tutta insieme all'amministrazione comunale, insieme al sindaco che con grande determinazione e entusiasmo ha voluto che questa opera fosse restituita alla città perché crediamo che Gaeta non sia solo mare. Il mare è bellissimo ma invece vada anche valorizzato tutto quello che è il suo patrimonio storico, culturale e artistico naturalmente per far durare molto di più la stagione turistica che offre questa città e che deve essere fruibile anche in periodi dell'anno continuativi.